Buongiorno a tutti. Benvenuti a questo momento di preghiera. Pace bene a tutti. Iniziamo il primo giorno del triduo all'annunciazione. Iniziamo con il canto Madre io vorrei. Io vorrei tanto parlare con te. E di quel figlio che amavi io vorrei tanto ascoltare da te quello che pensavi. Quando hai udito che tu non saresti più stata tua. E questo figlio che non aspettavi non era per te. Ave Maria Ave Maria Io vorrei tanto sapere da te. Se quando era bambino tu gli hai spiegato che cosa sarebbe successo di lui. E quante volte anche tu di nascosto piangevi madre. Quando sentivi che presto l'avrebbero ucciso per noi. Ave Maria Ave Maria Ave Maria Ave Maria Ave Maria Ave Maria Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen Cari amici del canale di Youtube Buon martedì Sono le ore 8 del mattino E allora iniziamo questo primo giorno del triduo all'annunciazione. Una cosa che io non ho capito, ragazzi, è perché io ho detto di nuovo martedì, se oggi in realtà non è neanche martedì. Non lo so. Va, è uguale. Iniziamo allora il primo giorno. E anche io a volte vado fuori, è così. Ci rallegriamo con te, o dolce Madre nostra, e godiamo che l'Angelo ti incoraggi a non temere, dicendoti che eri accetta all'Altissimo, e che il Figlio di Dio si sarebbe incarnato nel purissimo grembo. Noi ti veneriamo con profondissimo affetto, e ti riconosciamo per Madre del nostro Creatore, e ci offriamo tutti al tuo servizio. Tu, però, degnati di riconoscere per tuoi figli e servi, e facci sempre più degni per la tua protezione del tuo amore. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori. Adesso è nell'ora della nostra morte. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori. Adesso è nell'ora della nostra morte. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori. Adesso è nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio, e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Prega per noi, Santa Madre di Dio, e saremo degni delle promesse di Cristo. Preghiamo. O Dio, che tramite l'annuncio dell'angelo ci hai fatto conoscere l'incarnazione del tuo verbo, nel grembo virginale di Maria, ti preghiamo di guidarci fino a te per i meriti della passione e della croce di tuo figlio e nostro Signore Gesù Cristo, e per l'intercessione dell'Immacolata sempre Vergine Maria, sua e nostra tenera Madre. Amen. Domani, alle ore otto, il secondo giorno di questo triduo. ricordo, tra mezz'ora, le letture ad libitum della quarta settimana di Quaresima. e ricordo, venerdì 24, alle ore 17, la via Crucis, alle ore 18, le letture normali del giorno, e alle ore 19 e 30, e alle ore 19 e 30, la via Crucis dei bambini della parrocchia. Come già detto, una via Crucis diversa rispetto alle altre, perché è più semplificata. e voi la sentirete questo venerdì alle ore 19 e 30. E ora terminiamo questo momento di preghiera con il canto Andate per le strade. Andate per le strade in tutto il mondo Chiamati i miei amici per far festa C'è un posto per ciascuno alla mia mensa Nel vostro cammino annunciate il Vangelo Dicendo è vicino il regno dei cieli Guariti i malati, mondati i lebrosi Prendete la vita a chi l'ha perduta Insieme Andate per le strade in tutto il mondo Chiamati i miei amici per far festa C'è un posto per ciascuno alla mia mensa Vi è stato donato con amore gratuito Ugualmente donate con gioia e per amore Con voi non prendete né oro né argento Perché l'operaio ha diritto al suo cibo Insieme Andate per le strade in tutto il mondo Chiamati i miei amici per far festa C'è un posto per ciascuno alla mia mensa Buona mattinata a tutti Grazie per le strade in tutto il mondo